simone stai tranquillo non ci riesco sono preoccupato il professore è severo ma è una brava persona a me l'è la prima lezione a te a me è la terza finora cosa hai imparato allora mi devo concentrare occhi chiusi respiro profondo a bocchini ma metà a bocchini ma metà all'ultima volta quale ha morto la salsiccia ma ma la salsiccia non può morire meretti è un modo di dire un esempio tu ti esce da me la settimana che stai a napola già ti rotto il braccio ma mamma mia mi ha detto che sono cose che possono capitare a tutti la pazza mamma mia come contorno ma hai capito vicina salsiccia che c'è va la polenta o frariella meretti o frariella ma mamma mia non mi ha mai fatto mangiare o frariella ma perché frariella lo trovo solo a napola ma anche polenta e salsiccia è buona si o frariella è nata cosa non può capire lo ha giocato a scendere la bocca o frariella casa in casa rindurendo e mamma mia mi fa usare il filo interdentale tu non vuoi aggiungare il filo interdentale o frariella si leva con l'ugno ma mamma mia mi ha detto che non è igienico che si pigliano le malattie la malattia fa di mamma mia salve ragazzi cosa verdi la paura del professore tranquilla simone andrà tutto bene voilà mister anche lei c'è stato qui nella prima lezione ho imparato le migliori pasticcerie di napoli adesso passeremo alle pizzerie buone su babà allora ma a mezzoni che c'è fa? che devo fare? quello che gli è dispiaciuto era triste si è anche scusato gli scuso? chi le ha rotto il braccio? come a me mi c'era una capata in faccia ma mamma mia? hai rotto pazzo tu e mamma mia? meretti tu devi salvare tu hai uscito oh che ferma no mamma mia mi ha detto che devo uscire solo il pomeriggio per leppi hour a napoli non si usa leppi hour a napoli si va a mangiare e poi a roba si va a bere qualcosa ma a mezzanotte noi sette ma mamma mia mi ha detto che devo andare a letto presto ma ma mamma te non c'è sta arrapigliate una poco vivi dove sei buona giorno ma mamma mia? ancora con questa mamma mia? ma mamma mia? ancora? meretti tu devi arrapigliare? no no mamma mia mamma mia mamma mia mamma mia ma vaffanculo tu e quella bucchini mamma mia è stato controlo